A differenza degli altri, comunque io sono varesino, quindi sono partito proprio da tutto il settore giovanile del Varese e tutto è partito da qualche anno aggregato alla prima squadra e nel momento in cui c'è stata l'annata che sembrava la disfatta dove c'è stata un'autoretrocessione, invece da lì è partita la mia carriera. Quindi un anno in Serie D da protagonista e da lì poi si è partiti. La comunicazione dell'autoretrocessione venne data quando eravamo già in ritiro, tutti convinti comunque di far la C2, quindi c'era un fuggi-fuggi generale magari dei giocatori più anziani, più esperti e la situazione non era proprio chiara. D'altra parte c'era comunque la visione di un presidente che era affiancato da Orrigoni e quindi quello fu davvero la speranza per noi di rimanere tutti. Poi piano piano, con l'amichevole, giorno dopo giorno, si vedeva che comunque la squadra veniva formata e quindi non è stata una giornata in particolare che ha delineato, si riparte, è stata comunque una serie di eventi dove si vedeva che c'era programmazione. Lo spirito uno ce l'ha o non ce l'ha e non è che può comparire tutto un colpo. È normale che per chi gioca nella propria città e è cresciuto in quella società, ha fatto tutto il settore giovanile, arrivare nella prima squadra permette di dare un qualcosino in più, ma lo spirito in sé comunque uno ce l'ha dentro. Anche l'ultimo del 2015 comunque si partiva da zero, si è partiti e si è finiti alla grande e dopodiché è scoppiato tutto il casino, però l'annata in sé che ho vissuto io è stata molto positiva. Una città che porta il giocatore comunque ad affezionarsi, parecchi si trasferiscono qui a vivere e è normale che si provi un affetto particolare per una città così, anche perché comunque noi giocavamo in eccellenza tre anni fa e la partita dove si festeggiò tra l'altro i 106 anni del Varese c'erano quasi 5.000 persone. Quindi al di là della categoria il tifoso varesino segue sempre la squadra. Grazie